Abbiamo iniziato a aver perso un tipo a città, sicuramente è una squadra tosta, ma potevamo fare qualcosa di più. Abbiamo iniziato benissimo a questo amico canale. Dove si poteva fare di più? Sicuramente è fattuta a cercare di essere preventive e variare un po' di risposta in attacco. Quanto è difficile giocare contro Conegliano? Sicuramente non è facile, però tanti punti di giocare con una squadra del genere. Peccato, però ci saranno altre occasioni. Il primo set è stato combattuto, finché loro non hanno fatto qualcosa in più. E' andata così la partita, sono molto forti, lo sapevamo, e non siamo riusciti a starle dietro fino alla fine. Secondo te si poteva fare di più o proprio non c'è la storia? No, sicuramente si poteva fare di più. Oggi non è andato il muro di difesa. Come si è visto, di solito difendiamo molto di più. Loro sono degli attaccanti molto forti. Prendono la palla molto alta e molto potente, quindi è anche più difficile. Infatti abbiamo da una parte l'opposto migliore al mondo, dall'altra i centrali migliori al mondo, quindi è complicato. Coscia Lavarini ha provato a cambiare le carte in tavola con cinque sostituzioni, però... Però non ha funzionato. Loro erano pronte a qualsiasi cambiamento, si è visto, si sono adattate. Mi dispiace tanto perché ci tenevamo veramente tanto. Forse il vostro servizio sotto tono questa sera? Pure. Sì, vedeva che non stavamo spingendo come al solito. tante battute sbagliate, errori come invasioni, comunque errori che si potevano evitare. Così è difficile vincere con una squadra come questa.